Il senso, come vi dicevo, di autoefficacia. Quanto sono convinto e fiducioso in me stessa di potercela fare? Quindi prendere consapevolezza di questo. Di solito questa domanda qua precede lo sviluppo di un piano, di quello che si chiama il piano d'azione. Perché ogni obiettivo che io devo raggiungere dovrà essere scomposto in tanti piccoli obiettivi e io devo capire quanto effettivamente posso intervenire e mi sento in grado di intervenire su questi obiettivi. Quanto sono fiducioso in me stesso. Quindi il senso di autoefficacia che ci permette di continuare a pianificare, di continuare a mantenere relazioni, di continuare a tollerare momenti difficili e soprattutto di impegnarsi nella ricerca di soluzioni. Quindi se io sono a ricerca di nuovo lavoro, anche il senso di autoefficacia certamente mi permetterà di agire sempre più e di tenermi, come dire, fiducioso nel fatto che prima o poi ce la farò. Grazie a tutti.